Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di oggi, siamo tornati su Minecraftita, no, su Minecraft, normale, per un nuovo episodio di una serie cosa succede se oggi andiamo a fare una roba molto molto utile secondo me, senza zero un attimo perché voglio avere la luce, ma una cosa molto interessante che mi era venuta in mente tempo fa, lavorando con le shulker box, le prendiamo di diversi colori e vario tipo, per esempio possiamo prendere una orange, le prendiamo un po' tutte e vediamo un po' perché effettivamente la roba con inventario non può essere, come ben sapete, non può essere spostata, ok? Vabbè, prendiamo questo, un po' arcobaleno e tutto il resto, ci mettiamo un attimo in, però mi stanno sul culo queste tutte qui insieme, devo aprire un attimo l'inventario e riporle qua, lavoriamo per ora con una singola shulker box e poi andiamo a vedere come funziona, allora intanto, prima cosa fondamentale, shulker box non possono essere spostate perché come al solito sono cose con un inventario e non posso mettere dentro una shulker box dentro un'altra shulker box, non me lo fa fare e questa è già una cosa, possiamo però mettere delle shulker box sott'acqua e poterle tranquillamente aprire come le chest, se c'è qualcosa sopra le shulker box non si riescono ad aprire, un'altra cosa più figa però è che se noi mettiamo queste shulker box così le apriamo e va bene, tutti felici e contenti e poi adesso voi mi direte, si free va bene, grazie al cazzo ma tutte queste cose noi le sapevamo già, cosa che non sapevate però secondo me è questa cosa qua a parte che possono essere messe anche sotto la lava, vi invito a provare, ma per esempio noi abbiamo un ender chest che è con inventario e la shulker box è con inventario ma noi possiamo mettere tranquillamente la nostra ender chest dentro una shulker box e quindi tanto di guadagnato e possiamo fare anche questa cosa qua possiamo mettere le shulker box dentro un ender chest, ok? sti cazzi no, raga, sti cazzi un cazzo voi avete idea di quanta roba riusciamo a tenere qua? sono 9x3 slot, quindi 9x3 slot fa 27, 27x27 slot avete idea di quanti item riusciamo a mettere in un singolo blocco che è trasportabile? perché vi ripeto, ovviamente la nostra cara amica, mettiamo un sale touch, dove cazzo è? sale touch, sale touch, fortuna, unbreaking, efficiency, sale touch, mettiamo anche efficiency a questo punto che ci siamo se voi avete un piccone con efficienza, cazzo potete tranquillamente portarvi roba potrebbe essere la svolta della vita questa ci ho pensato l'altro giorno, mettiamoci un attimo in game mode gm0 funziona? no, slash g0, no me lo fa fa, vabbè ok, slash game mode 0, eccolo qua tac, voilà, ok ma come possiamo tranquillamente prendere questa? prendere una shulker box, tac, tac, anvil, rompere la shulker box aprire, infilare questo, rompere questo e andarcene tranquillamente in giro easy poi ci gira il kaiser, ci serve una shulker box, ricordiamo dove cazzo sta, tac, tac, tac ecco anvil ok, questo ci permette di avere l'inventario maggiorato cioè abbiamo un inventario, cioè è una cosa infinita ora possiamo fare anche una cosa a sto punto slash xp 9 milioni, ecco qua una cosa incredibile, va bene, tac mettiamo qua la vogliamo richiamare, possiamo rinominarla per esempio? certo che possiamo rinominarla, per esempio blocchi in questa qua io ci tengo i blocchi e quindi saprò già passando il cursore passando il cursore qua che qui ci sono i blocchi qua sopra per esempio ci voglio mettere che ne so, che ci vogliamo mettere? gli utensili oppure ci mettiamo dentro le pozioni però con la lettera maiuscola pozioni e così ti fai uno storage che è ok e limitato perché effettivamente per i blocchi però possiamo farlo anche uno per esempio questo ci mettiamo tutto il legno quindi qui dentro ci sarà tutta la parte di legno immaginate, cioè è una figata mostruosa cioè ce ne potrebbero essere infinite utilizzare per esempio fammi raccogliere questa un attimo vabbè che mettere qui dentro questi due non avrebbe senso però potremmo fare una roba per pozioni hand, legno, redstone hand nel senso di tutti i materiali che riguardano l'hand tutto il legno, tutta la redstone i picconi, tutti i diamanti, stone, terra e nether cioè riesci a fare una cosa che what the fuck è estrema cioè ti porti dietro sempre una roba del genere non devi portarti più dietro nessun cosa puoi farti una base ovunque cioè se hai sempre tutto pieno potresti fare una cosa ovunque potresti portarti via circa 27 vi faccio un breve conto allora abbiamo quanti slot disponibili? 27 al quadrato slot sono 729 slot disponibili se proprio volessimo portare via tutti i stack di roba avremmo a disposizione 46.656 item trasportabili tramite una hander chest cioè voi immaginate quanta roba possiamo portare via possiamo portare via interi chunk cioè possiamo mettere a scavare interi chunk potremmo portare via interi chunk di roba cioè è meravigliosa, è fotonico che poi calcolando che il mio inventario allora massimo 27 potrei davvero fare un magazzino portatile un magazzino che viene madonna che figata cioè vi rendete conto? la infinito al cibo, 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 giusto che poi l'inventario sarebbe lo stesso salvo perché essendo qua dentro tutto funziona però una cosa voglio mettere metto qua dentro oro la rompo e ok il nome lo salva sempre ho aggiunto cibo ferro, clay, sand e oro possiamo aggiungerne quante ne vogliamo ma cioè è un'altra cosa è una rivoluzione puoi portarti via le armature puoi portarti via tutto il cibo infinito cioè quando vai in giro non ci ho mai pensato a fare una roba del genere ma vi giuro che effettivamente è la svolta della svolta della svolta cioè puoi portarti via i vabbè ok anche i cosi i drop dei mob potrebbe essere una rivoluzione all'interno del nostro mondo di minecraft perché potremmo decidere in minecraftita di portarci via tutta sta roba e fare soltanto un inventario maggiorato lasciando sì ok una parte di magazzino ma la parte importante è che ce la portiamo sempre via cioè ci siamo sempre noi sono curioso di vedere una cosa possiamo quant'esperienza lo si può fare al massimo a infinito ok non c'è un limite molto bene ora vabbè c'è sempre il contro l'unico contro forse che potremo andare incontro con le ender chest perché pro sono tantissimi se perdi tutto cioè non perdi l'inventario perché ovviamente sta tutto salvato in un'altra ender chest ovviamente è una specie di puoi tranquillamente fare quello che cazzo fa ma puoi metterla anche sott'acqua waha puoi mettere l'ender chest sott'acqua non lo sapevo certo riesco a farla ci metti vent'anni zio ok grazie droppamela perfetto come le chest non puoi mettere blocchi sopra però non questi cavoli tac non è apribile possiamo poi nasconderla tranquillamente perché effettivamente è vero potresti nascondere un inventario e poi nessuno può accedere al tuo inventario effettivamente per il semplice fatto che porca miseria ok tu la seppellisci qua ciaoone eh ciao e nessuno potrebbe accedervi comunque perché vi possono killare vi prendono l'endercesto ma avrebbero il loro inventario non il vostro quindi forse contro non ce ne sono è un po' noioso perché devi tirare fuori sempre tutto e poi devi rimetterlo dentro però alla fine non è quello il grande problema ragazzi guardate secondo me è l'idea del secolo questa se ci sono contro tiratemi fuori voi perché io non ne ho la più palide non ne conosco fa anche luce potresti andare in giro questo a mod di torcia altro pro è una soluzione fantastica cioè su minecraft è vero potremmo metterci a fare sta roba se io riesco a dividere il tutto in 27 categorie e avrei 27 shulker box io ho risolto uno dei maggiori problemi di minecraft è quello di andare a prendere le cose mi porto sempre dietro l'endercesto e ho pressoché tutto là dentro legno terra sabbia cobblestone stone magari divideremo la cobblestone dalla stone perché effettivamente portare dietro tutta quella roba è un po' difficoltoso però cioè a questo punto davvero il magazzino quello che abbiamo fatto noi per tanti tanti anni potremmo davvero decidere di abbandonarlo e dire ok non mi serve più no ok mi servirà ancora per gli storage ma possiamo risolverla a silos quindi effettivamente quel magazzino dettagliato particolare con sistemi non serve più altra cosa è resistente alle esplosioni cazzo è resistente alle esplosioni questa è un endercesto è fatta di ossidiana ergo resiste perfettamente alle esplosioni vi esplode un creeper in magazzino non è un po' sembra una televendita questo vi giuro hai problemi di storage hai problemi con i creeper vuoi arrivare sempre al tuo magazzino a prendere roba perché pensi che sia una perdita totale di tempo compra ender chest mixed by free fucking crazy perché non è partita ok al fanculo accendi tutto wow 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 ok esploderà farà un casino madonna ma rimane qui e l'ender chest non si muove per esempio ti entra un'orda di creeper dentro casa no problema con ender chest security ok la smetto per favore però volevo far vedere che davvero secondo me la rivoluzione del secolo la farò in minecraft in uno dei prossimi episodi wow 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 aspetta fammene spawnare il più possibile wow 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 e adesso mi butto io al centro sta perso in cedera al finimondo wow sei cazzo che bot ok non so niente dove sono spawnato wow 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 da ste parti però sempre ok boh non ho la più pallida di dove sia stato però comunque non esplosibile ve lo vi faccio rivedere meglio se volete però sapete tranquillamente che i creeper non vi distruggono l'ender chest è una delle basi fatta d'ossidiana non è un problema almeno che non siete su un fazioni perché effettivamente non non penso ecco guardate ok esplodete tutti boom ok perfetto sono esplosi e l'ender chest rimane qua insomma ender chest is the way anche perché vi faccio vedere no vi kill aspetta ma questo lo sapete non è che vi faccio vedere come funziona l'ender chest slash kill vi kill no slash kill riprendete un altro ender chest ovviamente c'è di nuovo tutto il contenuto quindi anche se doveste morire perdere l'ender chest nel vuoto tutti i materiali tutto quello che avete è tranquillamente reperibile di nuovo secondo me è una cosa troppo pima esista tante versioni quindi non so se la fixeranno in tutti i casi beh gg tanta roba ragazzoli penso che per questo video posso stare tranquillamente a saluto vi ringrazio tantissimo per la visione lasciare mi piace se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se avete fatto di condividere il video su facebook e farmi lasciare le persone mi raccomando passate in descrizione facebook instagram e telegram siamo come al solito a un prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti